ok provo a usare il metodo di elisa che per risolvere il problema del tastierino che non funziona su tv smart tv sabba 32 pollici non funzionava il tastierino numerico ha staccato la spina della tv per 5 secondi e poi il problema si è risolto vediamo accendo la televisione e vediamo che il tastierino non dovrebbe funzionare infatti spingendo i tasti non funziona io adesso sto con la presa tv si è spenta aspetto qualche secondo e riattacco la presa adesso provo vediamo se funziona ci mette un po spingo i tasti aspettiamo che carica e adesso funziona vedete guarda 88 adesso spingo il 9 99 che non c'è nessun canale si c'è un canale spingo 9 adesso funziona grande elisa 4 ok grazie ora la spengo grazie a elisa che ha risolto il problema del tastierino numerico del telecomando della smart tv sabba